Sali, sali, sali! Occhio Mario! Sali, sali, sali! Sì, sali, sali! Sì, sali, sali! Oddio, primo, andate un po' ... 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 no vien da... oh ciò da... Umbè! Umbè! ero che ha fatto oggi? si ci stanno pressando non scrivi questa cazzata non so veramente cazzo che cazzo allora ci vuoi troppi? vabbiamo se a te c'è una pannulla e una pannulla ma si ma non scrive anche scrive si bravo Mario ce l'hai dietro Pasqua ce l'hai dietro occhio eh uno due cazzo rossa 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 dai prendi sta cazzo è la buttata lui calma calma ma ci basta la munizione non è facile buona 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 stiamo qua ci ha fatto il pallo ci ha fatto il pallo ci ha dato il pallo l'ho fatto il battito con la teamma adesso siamo al contrario parliamo andiamo ad andare andiamo ad andare qui c'è quella scarpetta dal termine sull'altro qui c'è quella scarpetta dal termine sull'altro tutto tutta vieni qua vieni qua vieni qua vai che buono vai che buono vieni qua vieni qua mettila dentro giù qua si cazzo meglio quando la usiamo la usiamo quando la usiamo la usiamo la usiamo solo solo no 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 no